Accolgo e volentieri questa palla che mi passate, che per la città di Torino è comunque un impegno continuo nei confronti di questo tema che è veramente molto importante e molto sentito. Tutta la mia giornata, come anche la giornata di Barbara che ha partecipato a sua volta al convegno che abbiamo organizzato noi, è stata dedicata a questo tema della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Volevo ripercorrere brevemente quello che abbiamo fatto in mattinata, per chi non avesse potuto seguirlo, perché sono stati momenti significativi proprio perché abbiamo coinvolto le scuole. So che oggi sono presenti molti dirigenti scolastici, molti insegnanti, studenti, quindi sono coloro che in prima persona sono impegnati nella prevenzione di questo fenomeno che provoca effettivamente tanta sofferenza e l'esempio della mela è veramente calzante alle vittime. Sappiamo che anche i bulli hanno bisogno di sostegno e quindi tutta la comunità deve essere impegnata a lavorare insieme per la prevenzione nei confronti di questo fenomeno. Abbiamo iniziato la giornata con l'inaugurazione di un'esposizione artistica. È stata installata presso il Museo del Risorgimento una grande barca e su questa barca i nostri ragazzi hanno apposto i loro pensieri o disegni o altre suggestioni su questo tema. Sulla barca erano scritte quattro parole che sono le parole chiave che abbiamo deciso di dedicare al tema, quattro parole che rappresentano un po' i punti cardinali per muoverci in quello che abbiamo chiamato il mare della comunicazione. Le parole sono l'ascolto. Ascolto non vuol dire sentire basta ma presuppone un'attenzione nei confronti del nostro interlocutore. Quindi è un approccio attivo che ci consente di metterci nei panni dell'altro, di capire il suo punto di vista, di capire le sue emozioni e di capire quanto le nostre parole possono fare del male. E ci aiuta anche a capire il linguaggio non verbale. Spesso si capiscono molte cose non dalle parole ma dalle espressioni delle persone. In questo modo con l'ascolto attivo si pongono le basi della buona comunicazione, della buona relazione. L'altra parola è mediazione. Mediazione ci serve per superare i contrasti, per trovare un punto intermedio dove ognuno rinuncia a qualcosa per trovare una soluzione accettata da tutti. La terza parola è l'accoglienza. L'accoglienza non è solo il momento in cui arriva una persona ma è un vero e proprio processo. È l'attenzione alle condizioni di arrivo di una persona in un diverso contesto. È l'accettazione per quello che ognuno di noi è ed è la messa in atto di interventi di sostegno per creare un clima di incontro e di scambio. La quarta parola è responsabilità. L'ha già anche citata Barbara. La responsabilità sottende l'impegno che ci assume con un nostro comportamento, la possibilità di prevedere le conseguenze del nostro comportamento e quindi la capacità di correggerle proprio in base alla riflessione su cosa può comportare quello che facciamo e quello che diciamo. A queste parole io ne aggiungerei una quinta. La quinta parola è rispetto. Noi abbiamo detto ai nostri giovani oggi che abbiamo un'altra importante sfida, oltre a quella di salvare il nostro pianeta, ed è la sfida dei rapporti umani. È una sfida molto importante che riguarda tutti, anche gli adulti, e che dobbiamo imparare ad affrontare per vivere meglio nel nostro mondo. Dopo l'inaugurazione di questa mostra abbiamo anche noi avuto un momento di riflessione con un convegno dove abbiamo riportato alcuni dati statistici su questo fenomeno, perché è difficile anche dire quanto sia presente, qual è la dimensione del fenomeno del bullismo. Abbiamo scoperto con piacere che l'Italia non è posizionata tra i paesi in cui c'è una percentuale molto alta, ma siamo piuttosto in basso nella classifica, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, quindi questo significa che dobbiamo continuare nelle nostre azioni per far sì che si scenda sempre di più nella classifica e non viceversa. Durante il convegno ci sono stati anche dei workshop destinati ai nostri ragazzi, ma domani vi invito tutti a partecipare ancora presso l'Università degli Studi, i workshop continuano, ma non sono più rivolti ai ragazzi, sono rivolti a tutti i cittadini, quindi anche agli adulti, sarà un momento molto interessante e vi invito, ripeto, a partecipare. Allora, grazie a tutti per l'attenzione, tanti complimenti per questo convegno che ci fa riflettere sulle relazioni e buon proseguimento e buon lavoro. Grazie.